Sono Antonio Guida, lo chef del ristorante Seta del Mandarino Oriente di Milano. Oggi preparo un piatto della mia tradizione, orecchiette con cima di rape. Vediamo gli ingredienti. Abbiamo acqua tiepida, semola di granuluro rimacinata, poi abbiamo olio extravergine d'oliva, aglio, peperoncino, acciughe salate, cime di rape, basilico al prezzemolo e del pane. Ora facciamo l'impasto. Qua abbiamo 500 g di farina di semola di granuluro rimacinata e 220 g di acqua tiepida. Versiamo l'acqua e poi piano piano impastiamo con i po' pastrelli, cerchiamo di far aderire tutta la farina. Molto importante, questo è un impasto leggermente più morbido del solito e deve essere un po' elastico. fatto l'impasto, ora prepariamo le orecchiette. Facciamo dei cordoni di pasta. Vedete l'impasto è leggermente elastico e morbido, basta vedere al tatto, non deve essere duro. E ora facciamo le orecchiette. Si fanno in questo modo, si taglia e poi si cercano di arrotolarle direttamente sul dito. Una piccola pressione e poi si gira sul pollice, in questo modo. Nel frattempo io vado a fare la salsa e Alessia continua a fare le nostre orecchiette. Vediamo ora la preparazione della salsa. Il primo passaggio importante è cuocere le cime di rape in acqua bollente e una piccola parte renderla a crema, questo in modo da poter legare meglio le orecchiette durante il servizio. Due, è importante tostare il pane, prendere il pane raffermo, fare un fondo di olio, acciughe, dell'aglio schiacciato. Il pane tostato verrà utilizzato alla fine per decorare il piatto. Cuciniamo le cime di rape. Nel frattempo facciamo l'olio tostato, mettiamo olio extravergine d'oliva abbondante, un po' d'aglio schiacciato, poi ci mettiamo un po' di acciuga e la facciamo sciogliere. Una volta che si è sciolto l'acciuga, aggiungiamo il pane per tostarlo. Come vedete c'è abbondante olio, aggiungiamo le erbe tritate, prezzemolo e basilico, pochissimo peperoncino tritato, del pepe e poco sale. Vale. Il pane in questo modo è pronto. Ora le rape sono cotte, mi raccomando non scolarle, ma a toglierle in questo modo e una piccola parte viene frullata e il resto lasciata in terra per la salsa. Invece l'acqua viene utilizzata per cuocere le orecchiette. Ora Luigi una parte le frullerà che dopo utilizziamo nella salsa. Ora cuciniamo le orecchiette. Questo ovviamente la cottura cambia sempre in base al tempo, quanto tempo è stata fatta prima la pasta. Quindi se sono troppo secchi ovviamente ci vuole più tempo. Queste avranno massimo 5 minuti cottura, abbiamo fatte questa mattina e nel frattempo assembliamo la salsa, gli ingredienti che abbiamo cotto prima. Quindi prendiamo dell'olio extravergine d'oliva, poi dell'aglio schiacciato, un po' di acciuga. Ovviamente gli stessi ingredienti che abbiamo messo nel pane tostato, pochissimo peperoncino. Facciamo leggermente insaporire, facciamo sciogliere l'acciuga. Aggiungiamo le cime di rapa, un po' di acqua di cottura e, come dicevo prima, delle cime di rapa frullate che aiutano a legare la pasta per bene e anche per dare colore. In questo modo le orecchiette diventano belli verdi. Fatta la salsa si toglie ovviamente lo spicchio d'aglio. La salsa è completata, la pasta è cotta, si scola per bene. Mantechiamo bene la pasta, vedete che bel colore verde, quindi abbiamo le cime intere e una parte fatta a crema. E ora andiamo ad impiattare. Lontano dal fuoco mettiamo un po' d'olio al crudo, ovviamente, abbondante. Fatto questo, si impiatta. Mettiamo qualche cimetta sopra per decorare il piatto, in questo modo. E infine decoriamo con il pane tostato all'acciuga. È abbondante. Buon appetito! Grazie a tutti!